Grazie a tutti. Penso che non si sa nemmeno se Bayer Monaco, che ha cinque volte il nostro fatturato, riesce a vincere. Presidente, il pocio, il pocio, il pitone del pocio, Presidente. È fattibile, Presidente? No, no, no. Presidente, è fattibile? Ma è diventata una vecchierella, ragazzi. Posso darle un bacio, Presidente? No, la mela, la mela. Un bacio, Presidente. Un matura, la mela. Ma le minestre riscaldate. Presidente, a chi è? Una moglie che è andata con l'altro. No, no. Presidente, alla mela. Presidente, perciò per la foto. Ma anche la prese. Non è fattibile. Non ha fatto che? No, no, no. Ecco, come la romana giù? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie.